Benvenuti in questo nuovo video anticipazioni di Pelosetti del Paradiso delle Signore dal 2 al 5 aprile 2024. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali del Paradiso delle Signore. Lunedì 1 aprile il Paradiso delle Signore non andrà in onda. Martedì 2 aprile, Tancredi confida a Umberto il suo desiderio di fare tutto il possibile per riconciliarsi con Matilde. Nonostante Clara abbia trionfato nella gara ciclistica, rischia la squalifica perché, senza saperlo, Alfredo ha installato il suo cambio sulla sua bicicletta. Il cambio non era ancora stato omologato, una mossa di perico. Marcello torna dalla Germania e rivela a Matteo di aver superato tutte le sue riserve riguardo all'affare con Hofer. Maria ha preso una decisione sul viaggio a Parigi per incontrare Defoy. Vito si offre di accompagnarla. Mercoledì 3 aprile, Tancredi dimostra una determinazione incrollabile nel suo intento di riconquistare Matilde, sfruttando ogni risorsa a sua disposizione. Il di Santerasmo elabora un piano per realizzare questo obiettivo. Una notizia improvvisa mette a rischio la carriera ciclistica di Clara, suscitando l'ira di Irene nei confronti di Alfredo. Ritenuto responsabile della situazione a causa della sua rivalità insensata con Crespi. Don Saverio intuisce che ci sia ancora qualcosa di irrisolto tra Marta e Vittorio e cerca di riavvicinarli con i suoi consigli. Umberto continua a screditare Marcello agli occhi di Adelaide, un comportamento che non sfugge all'attenzione di Flora. Nel frattempo, Vito lotta per ristabilire il suo rapporto con la Puglisi, ma si rende conto che non sarà una sfida facile. Giovedì 4 aprile, Perico si scusa con la Boscolo per aver messo a rischio la sua carriera nel ciclismo, ma la donna non è ancora pronta a perdonarlo. Alla luce di ciò, la Cipriani suggerisce a Perico di cercare il sostegno di Leonardo Crespi per trovare una soluzione al problema. Matteo saluta Maria prima della sua partenza per Parigi, ignaro del fatto che Malvezzi li stia spiando da lontano. L'uomo si rende conto dell'importanza del legame speciale tra i due e lo segnala a Guarnieri. Tancredi prosegue con il suo piano per riavvicinarsi a Matilde, dimostrando determinazione e impegno. Marcello viene a conoscenza casualmente di alcune informazioni da Flora che lo mettono a disagio. Questo porta a una lite serale con la contessa. Nel frattempo, Marta e Vittorio si avvicinano sempre di più, consolidando il loro legame. Venerdì 5 aprile, Vittorio inizia a sentirsi confuso riguardo ai suoi sentimenti per Marta e decide di cercare consiglio da Roberto. Leonardo si attiva per aiutare Clara, la quale rischia la squalifica. E Perico non può fare a meno di ringraziarlo per il suo intervento. Un caro amico o familiare di Rosa viene a farle visita, grazie all'intervento dei suoi coinquilini. Nel frattempo, Portelli prende una decisione risoluta e si reca a Parigi per incontrare la stilista. Dopo il litigio della sera precedente, Adelaide decide di mettere da parte l'orgoglio e avere una conversazione aperta con Marcello. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 2 al 5 aprile 2024. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.